Siamo con Antonio Bressa, segretario cittadino del PD di Padova e parliamo di nuovo ospedale, si è creata una sorta di situazione di stallo. Il no di Bitonci è stato ribadito, Zaia ha risposto, qual è la posizione del PD? Noi prendiamo atto del fatto che c'è appunto come viene definito uno stallo perché c'è stato un veto incrociato tra Zaia e Bitonci per cui si è usciti da questo tavolo con un nulla di fatto, una sospensione del progetto e dell'iter che era in corso quindi di fatto in questo caso non vince né Bitonci né Zaia ma perde la città perché stiamo perdendo tempo nel frattempo le altre città del Veneto e delle altre regioni investono su una sanità d'avanguardia Padova da troppo tempo ferma a causa dell'incapacità della regione di essere sufficientemente determinata su questo tema e adesso dell'incapacità del comune di Padova di offrire uno spazio sul quale la regione possa realizzare l'opera. Quali saranno i futuri passi da parte del Partito Democratico? Adesso noi lotteremo in tutte le sedi istituzionali per chiedere che la politica e quindi chi governa in città e in regione trovi una soluzione. La politica è chiamata a rispondere alle esigenze dei cittadini in questo caso risponderà anche a un'esigenza di valorizzazione dell'eccellenza medica di Padova chiediamo con forza che si individui una soluzione che vada bene alla città e possa portarci al passo coi tempi perché è questa la vera esigenza che abbiamo oggi. Bitonci ha ribadito il suo no al nuovo ospedale di Padova ma ha presentato un progetto rinnovato per rinnovare il vecchio ospedale. Sì, non conosciamo neanche ancora i dettagli l'unica cosa che conosciamo è la risposta che oggi Zaia ha dato a Bitonci asserendo che comunque fare un ospedale nuovo sul vecchio è evidentemente un progetto troppo lungo e troppo costoso e dovrà Bitonci spiegare come è possibile riuscire in questa operazione senza questi tempi e questi costi troppo elevati. Grazie 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 Grazie